Ragazzi, questo video è molto importante, ne vale la vostra salute. Quando vedete sui social questi tipi così pericolosi per la loro ignoranza, vi raccomando state attenti, specialmente coloro che vi dicono che l'essere umano non è carnivoro, non è onnivoro, ma è vegano, è vegetariano e il nostro sistema digerente può digerire soltanto il mondo vegetale, state attenti, perché secondo gli scienziati l'essere umano è un essere onnivoro e ha bisogno delle proteine nobili, della carne, quindi mangiate carne, mangiate carne perché serve, rischiate di fare una dieta a base di vegetali che non è sufficiente, potete ammalarvi secondo questi scienziati che ovviamente hanno studiato e ne sanno più di noi. Quindi ecco, questa è la prima notizia, voglio mettervi in guardia e al corrente di questa cosa. Un'altra notizia che vi posso dare, state attenti alla carne, la carne magari cotta al sangue così, un po' cruda, un po', perché può contenere dei virus, dei batteri, delle sostanze che non vengono cotte, non vengono sterilizzate, non vengono in qualche modo purificate e quindi queste sostanze quando si mangia questa carne possono infettare il vostro corpo. D'altro canto io mi baso su scienziati e ricercatori che hanno fatto delle prove su questo, quindi voglio avvertirvi di questa cosa. Un'altra cosa che vi posso dire, state attenti alla carne, state attenti alla carne, perché? Perché la carne cruda, scusate, la carne cotta genera un'ammina eterociclica che è una proteina che ha una certa temperatura, diventa tossica e tumorale, quindi quando cuocete la carne state attenti, non la fate cotta, fatela leggermente cruda in modo tale da non generare queste ammine eterocicliche, ok? Che sono estremamente tossiche. Allora io vi do un consiglio, per esempio mangiate verdura, ma non mangiate verdura cruda, mangiatela cotta in modo tale da disinfettare anche i veleni che danno sulla verdura, perché la verdura quando viene colta è già piena di ormoni e di veleni, quindi cercate di cuocerla il più possibile per neutralizzare la tossicità di questi veleni, lavatela bene eccetera. Altro consiglio, mi raccomando, la verdura cotta non ha le stesse proprietà benefiche della verdura cruda, quindi evitate di cuocere la verdura perché perde le sue proprietà, perde le sue proprietà la verdura cotta, non la dovete cuocere perché se no vi mangiate una poltiglia che non ha proprietà sia di proteine, di vitamine, di sali minerali, perde i sali minerali nella cottura, ok? Questo è molto importante, molto importante per la salute. Non date credito a questi pseudo santoni, pseudo santoni che su internet vi dicono di essere vegetariani e di vivere meglio, soprattutto quelli che vi dicono di essere carnivori e vivono meglio, non date retta a queste persone. Un'altra cosa importante, i vaccini sono importanti per la salute di tutto il popolo, i vaccini sono importanti perché? Perché prevengono le malattie, quindi mi raccomando, vaccinate voi e i vostri figli, questo è fondamentale per la salute di questa popolazione. Altro discorso, state attenti agli effetti collaterali dei vaccini, sul bugiardino c'è scritto, c'è scritto, ci sono gli effetti collaterali che sono molto gravi in alcuni casi, quindi evitate di prendere i vaccini perché possono causare degli effetti collaterali molto molto gravi, quindi attenzione sempre a questi santoni, ok? Attenzione, state attenti. Ecco, questi sono alcuni consigli che vi posso dare, quindi mangiate la carne, mangiate il mondo vegetale, quindi frutta e verdura, fatevi i vaccini, ma soprattutto evitate di mangiare la carne, evitate di mangiare la verdura e soprattutto evitate di farvi i vaccini. Questi sono i consigli che io vi posso dare perché l'ho visto sui media stream che sono appunto coloro che ci avvertono di queste problematiche e voi dovete far capo a questi media stream che sono la verità, sono la verità, lasciate stare queste persone che sono dei truffatori, sono dei truffatori che vi dicono queste cose, ah ma sa, ma così, ma colà, state attenti. Pensate che mio cugino aveva un mal di testa e è andato su internet e ha fatto, diciamo così, una ricerca e ha scoperto, mio cugino ha scoperto di essere incinto, per cui ecco, questo è il problema più grande dei mainstream e soprattutto dei social di queste piattaforme web, ma attenzione, attenzione alle piattaforme web, ai social, ai mainstream che vi dicono delle cose non vere, i mainstream dicono cose non vere, quindi io vi invito a credere ai mainstream e ai social perché purtroppo sui social e sui mainstream si dicono cose non vere, ecco, che possono mettere a repentaglio la vostra salute, ok? Questo è il discorso che posso farvi io dall'alto della mia coerenza e posso darvi ecco questo aiuto importante, state attenti, alla mia coerenza e la mia coerenza.